Ciao! Che bello ascoltare le storie intorno al fuoco, non credi? Come dici? Non c'è il fuoco e nemmeno le storie? Non c'è problema, noi possiamo tutto, con la fantasia naturalmente e anche con la musica. Pronti? Via! Nel cerchio intorno al fuoco raccontami una storia, nel cerchio intorno al fuoco raccontami chi c'è. Un grande esploratore vagava nel deserto, che caldo che faceva e forse ancora lì. Un grande esploratore vagava nel deserto, che caldo che faceva e forse ancora lì. Nel cerchio intorno al fuoco raccontami una storia, nel cerchio intorno al fuoco raccontami chi c'è. Un piccolo eschimese viveva su nel polo, che freddo che faceva e forse ancora lì. Un piccolo eschimese viveva su nel polo, che freddo che faceva e forse ancora lì. Nel cerchio intorno al fuoco raccontami una storia, nel cerchio intorno al fuoco raccontami chi c'è. La pulce ballerina sull'orso lei saltava, faceva un gran plurito e forse ancora lì. La pulce ballerina sull'orso lei saltava, faceva un gran plurito e forse ancora lì. Nel cerchio intorno al fuoco raccontami una storia, nel cerchio intorno al fuoco raccontami chi c'è. La puzzola nel bosco la coda sventolava, faceva una gran puzza e forse ancora lì. La puzzola nel bosco la coda sventolava, faceva una gran puzza e forse ancora lì. E forse è ancora lì. E adesso buone storie con o senza fuoco? Meglio senza. Ciao! Meglio senza.